I think I can fly, think I can fly when I'm with you E quindi non c'è tanta voglia di far video perché comunque fa un sacco di caldo Non c'è proprio la voglia di stare al computer con tutto il caldo a fare video Poi ragazzi vi ringrazio ancora per i 30.000 iscritti veramente grandissimi Grandissimi veramente E per lo speciale di Omegle farò la seconda parte ragazzi Perché nella prima parte c'è stata poca gente Visto che ci fu quel ritardo gigantesco perché non funzionava più l'app per registrare il computer Poi ho risolto eccetera eccetera Comunque non ho cancellato il primo episodio Perché comunque c'era gente Farò il secondo episodio Non so precisamente quando Ma sarà in questa settimana Quindi lo farò un po' prima di orario Tipo per 4.30-5 Ecco diciamo così E chiaramente avviserò sia sul canale Telegram Che lo troverete in descrizione E poi avviserò anche con un piccolo video di Youtube qua E mi raccomando iscrivetevi al canale È importante attivare la campanellina Quella che esce a destra Di quando vi iscrivete ragazzi È veramente importante Poi ragazzoli sto migliorando la mia postazione Da gaming Sto aggiungendo un po' di cosette E farò un video quando faccio 3 anni su Youtube ragazzi Quindi ad ottobre farò un video Dedicato alla mia postazione Chiaramente negli altri 2 anni Ho sempre fatto video sulla postazione Quando c'è l'anniversario Ecco diciamo così Anche quest'anno farò così Perché ovviamente passano gli anni Più si aggiungono cose E la novità di quest'anno È che comunque ho preso una piccola partner collegato E sarebbe una piccola collaborazione Che sta andando abbastanza bene E niente Quindi in futuro vedrete anche altri prodotti Che magari farò delle recensioni O degli unboxing ragazzi Poi come avete visto GTA praticamente è morto Per ora vanno i video sul PC Oppure quando escono le macchine O degli aggiornamenti Quindi gare e attività Non vanno proprio più Ho fatto anche una prova Metto dei video su gare Non me li aprite assolutamente Quindi mi fate capire Che già non vanno più Cercherò di inventarmi qualcosa Per il canale Perché raga Purtroppo Non so cosa portare Zero A parte i video sul PC Che ho visto che Non sono andati male E non si sa ancora niente Sul prossimo DLC GTA Ma si parla Non lo so Settembre Non si sa Il problema di GTA V È che la Rockstar Rilascia aggiornamenti Tardi Cioè Devono passare mesi Così la gente si annoia E poi niente Raga Questo è il grande problema Di questo gioco E non come Invece altri giochi Che rilasciano Un aggiornamento al mese E quindi Sono sempre attivi Di gente Eccetera eccetera Ma non sto a fare Nomi di giochi Ragazzi Ovviamente Poi ragazzi Prossimamente Vorrei fare un Fuck you time Dove mi far chiedere domande Visto che da Un bel po' Che non lo faccio E magari Metterò un post Su Facebook Tipo Ragazzi Scrivete domande Hashtag Eccetera eccetera Quindi se non mi avete Tra gli amici di Facebook Scrivete Qua sotto In descrizione ragazzi Ci sarà il link Sia la pagina Facebook Che il profilo Quindi se volete Inviarmi un'amicizia Fatelo tranquillamente Ragazzi Perché comunque Vorrei fare un Fuck you time Per le persone nuove Ecco Diciamo così ragazzi Comunque YouTube L'ho presa molto Alla calma L'avete visto Perché comunque Quando voglio Di far video Li faccio Quando non lo voglio Non li faccio Farò spesso live In estate Perché vedo che vanno L'altro giorno Ho fatto alcuna live E andate anche bene Perché raga Non so perché Ma vanno più Dei video In questo momento Forse perché la gente Sta in vacanza Perché la gente Non ha tempo Di vedere video Ma nelle live Ci sta di più Non lo so Comunque ragazzi L'ho abituato Perché comunque Anche Sia l'estate scorsa Che l'estate di due anni fa Su YouTube Si va male Perché comunque La gente è inattiva A meno che Non si fanno video Clickbait O stronzate varie Li aprono Vabbè YouTube Sta diventando sempre peggio Negli anni Perché comunque È molto più difficile Salire rispetto a due anni fa A tre anni fa Eccetera eccetera Ragazzi Questo era un piccolo vlog L'ho messo oggi Che è domenica E in questi giorni Vedrete Un paio di ruba Sul canale E tipo domani Viene Adriano nel mio paese Andiamo in piscina Andiamo a fare bordello E cercherò di registrare Un po' Qualcosina Con la mia Action cam Quindi raga A fine estate Farò un piccolo montaggio Di momenti Di quest'estate E poi Deve ancora uscire il video Di Milano e Torino Che sta in fase editing Visto che è un po' Complicato Ecco Da editare Perché ci sono Trenta clip Ecco Diciamo così Quindi ragazzi Seguitemi Seguitemi anche su Instagram In descrizione c'è Instagram E lì Metto tutte le cose Della mia vita giornaliera Ecco Diciamo così ragazzi Per questo video è tutto Nella settimana Metterò su Facebook Sia sul canale Telegram E farò anche un piccolo video Qua Per avvisare di Omegle E niente Poi anche il fuck you time Su Facebook Metterò ragazzi Un post che ho scritto Fatemi le domande Eccetera eccetera Per questo video è tutto Noi ci becchiamo ragazzuoli Al prossimo video Bella